Il mio è il mio, adesso non c'è più chiaramente, ma è quelli che una volta amavano a modo loro. Quante volte mi ha messo in castigo senza aver fatto niente. E allora io pensavo, ma questo è odio o è amore? Alla fine ho dovuto riconoscere che se sono così è perché lui mi vedeva in quella prigione e ho ringraziato che era amore. Non so se riuscirò a raccontarla, ma mi piacerebbe che ascoltate le parole scritte per mio padre. Quante volte e senza ragione mi chiudeva per ore in prigione. Lui mi tirava, questo è il mio vento, mi spingeva su per le scale, mi puntavo come fa il mulo. La risposta era un calcio vero. E piangevo, piangevo, piangevo con rabbia nel cuore. Mi chiedevo se quello era odio, se quello era odio, mi chiedevo se quello era odio, se quello era odio. Poi il cuore batteva più piano, il sonno mi prendeva a fermare. E sognavo di andare lontano, verso la vita e la mia libertà. E pregavo, 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 pregavo con quel sogno nel cuore. E pregavo, pregavo, pregavo con quel sogno nel cuore. E pregavo, pregavo, pregavo. E pregavo, pregavo con quel sogno nel cuore. Mi svegliava soltanto un picciolo che batteva sul vetro con il vecchio Forse lui era l'unico amico che di me aveva pochi rispetto Quell'amico non l'ho mai trovato Ora è qui in questo bastone ma se guardo lassù quel balcone Grazie a te che mi hai messo in corrigione Ora tengo il ricordo di un padre qui dentro del cuore Ma ti chiedo se quello era odio, se quello era amore Ora tengo il ricordo di un padre qui dentro del cuore Ma mi chiedo se quello era odio, se quello era amore Era amore Grazie Paolo Grazie a te che mi hai messo in corrigione Grazie a te che mi hai messo in corrigione